Nella giornata della Virgo Fidelis tutti i pugliesi, i baresi si stringono attorno all'arma dei carabinieri con una celebrazione eucaristica bellissima dedicata a loro, alle loro famiglie, agli orfani dei caduti e di tutti coloro che si sono sacrificati per la nostra sicurezza, per la nostra tranquillità e per l'Italia. Una giornata dedicata ai militari che si sono sacrificati per la sicurezza del nostro territorio e di un intero paese. Anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla Santa Messa per la Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri. La Messa è stata celebrata nella cattedrale di Bari da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, alla presenza tra gli altri del comandante della legione carabinieri Puglia, il generale di brigata, Francesco Spagnol.